L'azienda agricola La Cerea nasce nel 1966 dai genitori che ci sono spostati nella zona del Cuneese qui a Pralormo, in provincia di Torino. Negli anni l'azienda si è evoluta con diversi passaggi. Nel 1989 c'è stato l'inserimento in azienda del laboratorio per iniziare una piccola parte di trasformazione del latte. Tuttora trasformiamo il 50% del latte prodotto in latte imbottigliato, yogurt, formaggi freschi e formaggi stagionati. Abbiamo sempre privilegiato nell'arco degli anni la produzione e la qualità. Produciamo latte di alta qualità. Dal 2016 c'è stato un cambiamento importante nell'allevamento e nell'alimentazione. Abbiamo praticamente bandito le razioni vecchie che usavamo con base di silo mais e fieno di loietto. Abbiamo inserito nella SAO aziendale almeno un 30% di medicai. Portiamo una buona parte della proteina e in termini di denaro acquistiamo molto meno proteina altrove. Noi in azienda abbiamo un separatore di liquami e con una gestione intelligente abbiamo bandito completamente i concimi chimici e minerali. In questi anni l'alimentazione dei nostri animali è cambiata molto. Siamo passati dagli anni indietro con l'alimentazione base di silo mais e fieno di olio italico. Nel 2016 c'è stato un cambiamento drastico. Con i medicai abbiamo in prima linea in razione la medica seguita dall'olio italico tagliato molto precocemente. Poi abbiamo il mais non più sotto forma di silo mais ma sotto forma di pastone integrale per fornire tutto il resto dell'energia della razione. È una cosa buona vedere tutti questi alimenti prodotti in azienda che ha abbassato molto il costo razione.